Consiglio comunale ad Urbino, l'ultimo del 2023, tra i temi principali, quello del bilancio con investimenti in previsione del possibilità grazie al PNRR fino al 2026. Esatto, questo è l'ultimo Consiglio comunale e quest'anno, a differenza anche degli passati anni, abbiamo portato il bilancio in anticipo perché questo ci dà la possibilità come amministrazione di essere subito operativi all'inizio dell'anno con tutto quello che riguarda poi gli investimenti, i lavori da effettuare, tutto quello che ruota attorno al bilancio. Quindi oltre al DUP che verrà approvato, il documento unico di programmazione, ci sarà tutto quello che riguarda, come dicevo, il bilancio e anche tutte le delibere che sono correlate al bilancio. Quindi è un Consiglio comunale molto importante, quindi ci sarà una discussione adeguata, opportuna, come deve essere, perché ci deve essere un confronto anche approfondito in questi momenti ed è giusto che sia così. Un bilancio comunale che parla in maniera importante delle bilancio, un bilancio che quest'anno viene trattato in largo anticipo rispetto agli anni precedenti. Sì, l'anno scorso l'abbiamo approvato il 31 marzo proprio per vedere tutti i decreti attuativi. Quest'anno invece abbiamo voluto lavorarci subito perché il Governo centrale ha messo dei paletti alle deroghe dell'approvazione del bilancio. Sostanzialmente cosa cambia? Mentre l'anno scorso, da gennaio a marzo, siamo stati in esercizio provvisorio, quest'anno se non avessimo approvato il bilancio il 31-12 saremmo andati in gestione provvisoria. La differenza tra i due è che il bilancio sarebbe stato molto più stringente, non avremmo potuto attuare niente. Quest'anno è l'ultimo anno, il 2024 è l'ultimo anno del nostro mandato per cui dobbiamo portare a terra tutti quei progetti che abbiamo già iniziato nel 2023 ma quelli che vorremmo anche iniziare nel 2024. Basti pensare che solo dei 18 progetti che prevedono 43 milioni di euro, solo nel 2024 sono previsti circa 8 milioni e mezzo di spese. Per cui ringrazio veramente gli uffici perché siamo riusciti a portare in delibera entro il 31-12 ma soprattutto verificando anche le situazioni e mantenendo gli equilibri di bilancio. Nel Consiglio Comunale di oggi abbiamo proiettato le attività fino al 2026. Un parere a riguardo di questo bilancio e di queste progettualità? Sì certo, mi pare che la cosa più importante sia il documento unico di programmazione il quale contiene gli interventi e gli investimenti che in città si possono fare a seguito del fatto che Urbino è capoluogo di provincia per cui ha usufruito dei fondi del PNR e di altre leggi. Siamo di fronte a circa 45 miliardi che si possono investire e questo lo voglio dire a tutti coloro che mi ascoltano, è stato possibile perché Urbino è capoluogo di provincia. Voglio anche specificare che nella delibera che viene presentata stasera c'è un'imperfezione, cioè si dice che Urbino è capoluogo di provincia insieme a Pesaro. È un errore che voglio correggere perché nella sentenza della Corte Costituzionale del 2013 non dice che Urbino è capoluogo di provincia insieme a Pesaro, dice che Urbino è capoluogo di provincia come Pesaro. C'è una bella differenza tra come e insieme perché si può anche intendere che la Corte Costituzionale dice che Urbino è capoluogo di provincia da sola. Questo lo dico alla popolazione perché quando qualcuno dice e mette in discussione che il sottoscritto si batte tanto su Urbino è capoluogo di provincia, io lo faccio volutamente anche per l'esperienza che ho perché il futuro di Urbino si gioca molto su questo. Dal fondo è gran parte dei 45 milioni di euro, se Urbino non fosse stata riconosciuta a capoluogo di provincia non sarebbero arrivati. Ecco perché noi, urbinati, dobbiamo continuare a lottare per questo obiettivo. In questo Consiglio Comunale un tema predominante è quello del bilancio, un bilancio che guarda al 2026, stilato in anticipo rispetto al solito, si presenta oggi nell'ultimo Consiglio Comunale del 2023. Sì, però vorrei soprattutto parlare del bilancio degli anni sino ad oggi, ecco, e quindi invitare i cittadini a fare qualche riflessione. E questo sulla base del fatto che questa amministrazione, che sta amministrando da dieci anni, è stata, diciamo, quella maggiormente favorita da una serie di eventi, per cui ha fruito di risorse mai avute da nessun'altra amministrazione. Questo con il decadere del patto di stabilità e con tutte le risorse che stanno arrivando e che arriveranno col PNRR. A fronte di tutto questo, appunto, io invito i cittadini a dire dopo nove anni e mezzo, in circa, perché mancheranno cinque o sei mesi da gennaio alle elezioni, che cosa si trovano davanti, che cosa ha fatto questa amministrazione sul fronte dei giovani, del turismo, della cultura, della produttività, dello sviluppo della città. Si chiedono se questa città, da dieci anni a questa parte, è migliorata, oppure vedono una città che è decaduta ed è fortemente in crisi. Noi crediamo che la risposta sia questa seconda e, come abbiamo fatto nel corso di questi cinque anni, ci adopereremo anche per il futuro, invece, per migliorarla e proporre, invece, un futuro alla nostra città e ai nostri cittadini. Ultima seduta del Consiglio Comunale per questo 2023, un bilancio presentato in anticipo, diversi temi anche per quanto riguarda gli investimenti del Comune. Quest'anno ci siamo assi entro la fine dell'anno. È molto importante, al termine della legislatura, approvare il bilancio entro il 31 dicembre, che si riesce a fare da cerniera tra il bilancio in termini che finisce al 31 dicembre e si ricollega con quello dell'anno successivo. È un bilancio, è una seduta del Consiglio Comunale sicuramente impegnativa perché, appunto, c'è il bilancio di previsione del 2024 e il 2024 è un anno particolare, l'anno delle elezioni. Si chiude il bilancio di questo anno, si inizia con un 2024 che vedrà anche le votazioni, diversi punti in cui vi siete trovati in accordo, ma anche alcuni in disaccordo. Sì, assolutamente, perché di nuovo compare un altro atto per la costruzione della palestra, la piantata, sulla quale siamo contrari, assolutamente contrari, e sulla vendita della porzione di fabbricato dell'ex monastero di Santa Chiara di proprietà del Comune al fine probabilmente di finanziare altre opere sulle quali siamo totalmente contrari. Deve rimanere proprietà comunale, deve essere incentivato anzi. Ricordiamo perché è questo voto sfavorevole per la palestra della piantata e per la vendita del monastero. Sì, assolutamente, la palestra della piantata è una battaglia che abbiamo sempre seguito e in accordo con anche il volere delle persone che abitano la piantata, crediamo che sia un'opera che non debba essere fatta in quel posto. Per quanto riguarda il monastero di Santa Chiara, crediamo che invece sia un'opera che debba rimanere pubblica, anzi valorizzata, eventualmente data in affitto, magari senza fini speculativi, ma in affitto a Lisia per potenziare gli spazi, ma deve rimanere proprietà comunale. Un consiglio comunale, l'ultimo di questo anno, si parlerà tra i vari temi anche di bilancio. Sì, bilancio che è stato redatto già un mese fa, approvato dalla Giunta, esposto, e quindi oggi andiamo all'approvazione di un bilancio in equilibrio, in forte equilibrio, quindi è stato relativamente facile stilarlo, quindi ringrazio l'ufficio, ringrazio chiaramente tutta la Giunta, l'assessore Maffei che l'ha seguito, ma anche la dirigente Valentini Ornella che è sempre puntuale nel sistemare le cose e nel portare dei bilanci veramente sani. Questo chiaramente è merito di tutta l'amministrazione, di tutti gli uffici che sono attenti, quindi avere un bilancio in equilibrio e pronto per iniziare dal primo di gennaio le attività dell'amministrazione comunale è importantissimo. Si è parlato anche della variante del piano regolatore per le attività produttive, quali i punti nello specifico? Sì, appunto come sappiamo che è già partita un'area industriale a Caguerra nel comune di Urbino che veramente porterà una ventata nuova di attività, di un'attività importante, ma anche di altre collegate, questa volta stiamo a realizzare una variante del piano regolatore per spostare delle aree che non sono mai partite in altre aree dove invece gli imprenditori e i tecnici hanno chiesto di spostarle. Parliamo di Canavaccio, un'area di circa 40.000 metri che va inserita come variante e di Calpino vicino all'ex ristorante Gambero Rosso, subito dopo sulla destra andando verso Fermignano nella strada vecchia, che è praticamente un'area di 10.000 metri quadri che viene inserita come area produttiva per gli artigiani, quindi un'area molto importante perché sappiamo che Fermignano e le imprese hanno coperto quasi tutto il territorio quindi c'è forte richiesta. Quindi questo al di là delle chiacchiere di tutti quelli che criticano questa amministrazione per le attività produttive, veramente stiamo facendo tanto, cercando di fare le varianti, gli aggiustamenti per poter attivare le imprese, come è successo con la Green Power di Caguerra che faccio una nota polemica o politica, che noi abbiamo fatto arrivare le imprese sul territorio e magari il PD e la nostra opposizione va a presentarle come un fatto molto positivo ma se non c'era questa giunta e questa amministrazione sarebbe stata lì ancora altri 40 anni come è successo per il Petricio che abbiamo attivato con l'università e tutte le attività correlate quindi credo che veramente è una soddisfazione grande riuscire a toccare tutte le aree del nostro territorio e far sviluppare le attività produttive nelle aree dove si possono sviluppare. Sicuramente non possiamo fare i capannoni adiacenti alle mura urbiche ma da dove si possono fare noi incentiviamo e aiutiamo le aziende a farle crescere. Grazie per la visione!